Con lo smontaggio del villaggio tirolese e la pulizia completa di Piazza Grande cala il sipario sulla seconda edizione dei mercatini natalizi ideati dalla ConfCommercio nell'ambito della città del Natale 2016. Almeno 630.000, secondo la ConfCommercio, le presenze registrate nei 30 giorni del mercatino che ha richiamato molte persone anche da altre regioni d'Italia, soprattutto nei weekend. E vincente è stata l'intuizione di far partire la grande macchina del villaggio tirolese già da fine novembre. Il boom di presenze si è registrato proprio nei primi tre fine settimane, a commento alla vice-edrittrice di ConfCommercio Catiusha Fei. A novembre c'era già voglia di Natale nell'aria e la gente ha dimostrato di gradire molto l'anticipo offerto dal mercatino tirolese. Proprio l'affluenza di persone da fuori, secondo ConfCommercio, ha salvato lo shopping nel centro storico. In generale dicembre è stato un mese fiacco per gli acquisti, anomalo rispetto agli altri anni. Gli aretini si sono mossi a far regali soltanto negli ultimissimi giorni prima del Natale. Secondo la vice-direttrice di ConfCommercio, per fortuna almeno i negozi del centro storico hanno potuto beneficiare degli arrivi da fuori che hanno tenuto sulle vendite nel resto del mese. L'ideale, secondo la ConfCommercio, sarebbe mettere a punto il programma natalizio 2017 per Arezzo già all'inizio dell'estate, in tempo per promuoverlo almeno presso i tour operator e i tour nazionali. ConfCommercio ha stretto con i tirolesi un accordo triennale per garantirsi la loro presenza fino a Natale 2018. Siamo poi in contatto, fanno sapere dall'Associazione Commercianti con altre realtà come Verona, dove il mercato natalizio ha una forte tradizione.